A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe Davides, cari amici questo periodo prepasquale è davvero bello, bello, mite, le temperature stanno aumentando durante il giorno e anche poche nuvole. Amici di Rette 7, infatti anche il venerdì santo sarà caratterizzato da un po' di nuvolosità tra la Val d'Aosta e i settori montuosi del Piemonte, localmente queste nuvole tenderanno a piegare anche verso i settori piareggianti un po' di velature altrove nelle ore centrali del giorno e qualche modesto addensamento nuvoloso sui rilievi, ma nel complesso una giornata tranquilla. Un venerdì santo abbastanza buono, nonostante vedete la presenza di queste nuvole, anche in serata pochi cambiamenti. E concludiamo con le temperature, le minime saranno attorno ai 10 gradi, le massime invece, passiamo alla grafica successiva, si attesteranno attorno ai 18-21 gradi centigradi, abbastanza mite quindi. Quindi per il momento è tutto, non ho altro da aggiungere amici di Rette 7, vi lascio ai nostri programmi, arrivederci.